Due ore di ritardo per le registrazioni troppo lente, l'attesa sotto il sole e le stangate dei parcheggiatori abusivi attorno alla fiera. Queste le prove aggiuntive per la prima delle otto giornate di preselezione per il maxi concorso della regione Puglia. L'apertura dei varchi ha avviato il test d'ingresso per i primi 3.000 candidati sui 36.000 in corsa per la conquista di 200 posti da funzionario, suddiviso tra tecnico e amministrativo. I quiz 110 tra cultura generale e domande tecniche sono stati sorteggiati alla presenza di tre volontari e sotto lo sguardo vigile delle telecamere. Tutte le fasi, come in un grande fratello, passeranno in diretta via internet. Impossibile copiare, su ogni fila vigilano gli addetti del Formez, l'ente a cui la regione è affidato l'organizzazione del concorso. Il leader dell'opposizione Zurlo ha controllato l'andamento delle procedure dopo aver sollevato non pochi dubbi sulle regole stabilite dalla regione. Tra queste le facilitazioni per 180 precari e l'esclusione di altri 370 con un solo anno di esperienza, diversi i ricorsi preannunciati. Io sono qui a metterci la faccia per chiudere la fase delle polemiche sterili e aprire quella vera e propria del concorso. Il concorso dell'equilibrio, il concorso del merito e sono qui a metterci la faccia per rinsaldare il patto fiduciario che deve legare noi ai ragazzi. Questi 200 giovani che arriveranno nella pubblica amministrazione verranno a potenziarla, innovarla, stimolarla.